Sarà una bellissima edizione, poi il titolo Nati per vincere dice tutto, ci fa capire come i valori dello sport sono importanti nella crescita soprattutto dei nostri giovani che peraltro sono il presente e il futuro dello sport e fa capire come anche nella vita sfidare se stessi per quelli che sono gli ambiti della propria crescita sia fondamentale, quindi ancora una volta lo sport come esempio da seguire.